Buongiorno dall'Outlet di Caffè con l'Ambra, ciao amici, so che mi seguite. Quindi, come vi avevo promesso settimana scorsa, oggi vi faccio vedere i costumi che abbiamo scontati del 70%, sono tutte taglie seconde e hanno il ferretto. La maggior parte di questi costumi è con uno slip morbido e hanno questo ferrettino leggero che non dà fastidio. Il bello di questi costumi qua è che si asciugano immediatamente. Allora, questo è della rosa qua, vi faccio un esempio, veniva 74 euro, viene 22,40 euro. Dopo abbiamo questo costume sul militare, quindi un camouflage militare leggerissimo, quindi se avete voglia di farvi due tuffi, se avete voglia di lanciarvi dallo scoglio, sono l'ideale. Poi, la cotton club, quindi sempre un camouflage immaculato con delle paillette, con dei ricami meravigliosi. Questo ha la possibilità di avere o uno slip alto o c'è un'abbinata anche una brasiliana. Quindi dopo dipende da quando avete preso il sole, come volete prendere il sole o come volete sentirvi. Questo anche ha lo sconto del 70, quindi va da 164 euro a 49 euro. Sono tutti prodotti made in Italy, quindi avete la qualità fantastica della Likra. Un design perfetto perché i nostri stilisti sono tutti quanti italiani e fanno delle cose splendide. Questo ad esempio è bellissimo perché ha tutta una paillette sia sul reggiseno che sullo slip. In questo caso, quando andrete in spiaggia, illuminerete la spiaggia come delle sirene. Dopo abbiamo questi, questi sono della Bikini 77, un'azienda di Rimini. Quindi questo è bellissimo perché ha vari colori. Il verde, che è il colore dell'anno, il verde florescente che l'anno prossimo uscirà anche nelle calze, il giallo, sempre florescente. Questi sono belli perché hanno, sono da usare per chi ha una coppa un po' importante e hanno una mutandina abbastanza piccina, quindi è anche un costume molto giovane. Basta avere un pochino di cena. Poi c'è in fucsia, in giallo normale, quindi tutte queste nuance di colore, questi qua venivano 69 euro e vengono tutti 20 euro. Quindi affrettatevi a venerli a prendere. Poi abbiamo questo costume, sempre con il ferretto, questo è un costume da signora perché ha il gancetto dietro, ha tutto quanto il pit sul seno e ha uno slip un pochino di Valerie. Poi abbiamo un triangolo senza l'imbottitura, sempre di Valerie, con la paillette. Poi c'è questo costume di Rosa Qua, che è sempre di Valerie, quindi sempre con un po' di pizzo e lo slipino abbastanza normale con il laccettino. Poi c'è questo viola, che è bellissimo, sempre di Cotton Club. Questa è della linea Crescentini, quindi una linea un po' più sexy. Il reggiseno è perfetto per una seconda normale e ha una brasiliana che si può anche utilizzare dall'altra parte perché fanno sempre un double face. Dopodiché abbiamo sempre delle fantasie, un bel ferretto abbastanza capiente, questo veste una coppa C tranquillamente e avete uno slipino morbido. Poi c'è questo giallo, sempre di Valerie, quindi elegantissimo e ha questo tessuto un po' goffrato che lo rende importante anche in spiaggia. Questo è adatto per chi ha una nuanza di colore un po' scuretta. Questi sono tutti i costumi al 70%. Dopo, se vi può interessare, abbiamo anche tutti i costumi al 50% di Valerie, quindi sempre con il ferretto. Dopodiché abbiamo sempre con il ferretto questo costume di Valerie, importante perché ha comunque un bello slip. Dopodiché abbiamo sempre con il ferretto questo nero, sempre di Valerie, bellissimo, sempre con uno slip piccolino e una bella coppa. Allora, questi costumi qua sono appunto adatti a chi ha un po' di seno, chi non ha voglia di avere l'imbottitura anche in spiaggia e chi ha voglia di asciugarsi velocemente. Spero che vi faccio vedere qualche altro costume con il ferretto. Ne abbiamo, eccolo qui, l'ultimo di pin up, sempre un ferretto con lo slip alto, molto gritoso e molto di moda. Ciao a tutti, vi aspetto con i commenti e anche per la strada che è ciò che mi salutate, sempre molto volentieri raccontandomi quello che avete visto in negozio. Le voglio bene, ciao!